Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Ricorre oggi l'anniversario della strage di Bologna, una delle più oscene pagine della storia del nostro paese. Non una pagina isolata in vero, dato che il nostro paese è costellato da episodi di violenza, di stragi e di omicidi non risolti. Da Ustica alla strage di Bologna, passando per l'omicidio Mattei e l'omicidio Pasolini. Insomma, l'Italia davvero si caratterizza anche per essere, oltre che il bel paese, il paese delle stragi, degli attentati e dei misteri irrisolti. È una giornata giustamente di memoria di quella strage, è una giornata istituzionale volta a ricordare anzitutto le vittime di quella tragedia. Ovviamente la politica usa sempre il passato nel tentativo di annettere anche le vittime a un progetto ideologico del nostro presente. Quello che voglio sottolineare è il fatto che in fondo la storia della nostra Italia, ma forse dell'Occidente tutto, ricorda molto da vicino la vicenda di Priamo cantata nell'ultimo canto del primo poema omerico nell'Iliade, quando Priamo si reca nella tenda dell'accampamento Acheo da Achille per chiedere in ginocchio la restituzione della salma del proprio figlio Ettore barbaramente ucciso da Achille e Achille piange insieme a Ettore. Ecco, è l'immagine perfetta del piangere post festum, del piangere dopo che la tragedia è già avvenuta, del pentirsi e del commuoversi dopo che le tragedie sono già avvenute e in qualche modo non è più possibile evitarle. Ecco, mi sembra che quell'immagine del pianto congiunto di Priamo e Achille sia l'immagine emblematica della storia d'Italia, se non dell'Occidente tutto, che sempre piange quando le stragi sono già avvenute e in qualche modo si pente post festum.